65. Per tutte le vite di tutti Ho letto che Scilace, navigatore della Caria del V secolo a.C., ebbe l'incarico dal re di Persia Dario I di esplorare le coste dell'oceano indiano ad oriente dell'impero persiano e quelle del Golfo Persico e del Mar Rosso. Scilace al suo ritorno lasciò un'accurata descrizione del viaggio che andò perduta, tranne i pochi frammenti tramandatici da altri autori. L'esplorazione durò dal 519 al 512 a.C. e la menzionano Ecateo di Mileto ed Erodoto IV-44. Di particolare interesse è la testimonianza dell'esistenza di popoli strani e favolosi che Scilace localizzò ai confini dell'India. Che cosa è rimasto di questo esploratore visto che il resoconto dei suoi viaggi è andato perduto? Commento È rimasto tutto quello che era scritto che doveva rimanere. I poveri frammenti dei suoi viaggi veri posteri e soprattutto ciò che la sua vita ha lasciato nella coscienza di Scilace e così per tutte le vite di tutti.